ciao a tutti siamo quasi alla fine della prima tappa sono esattamente le 14 e 36 e ci siamo fatti sei orette sette sette orette di passeggiata non posso neanche dire che non sono distrutto perché se lo dico i miei amici che mi conoscono sanno sicuramente che sono distrutto quindi non posso neanche mentire comunque guardate ci sono tante persone c'è lui il simbolo del green pass veneto il nostro amico ginger che ha rischiato che montassi in gruppo a un certo punto persone come vedete ci sono siamo quasi mille devo dire che è stata dura la prima tappa ma però tanta soddisfazione tanta bella gente è bellissimo tutto questo perché è una cosa semplice è fatta proprio con il cuore io sono diciamo felice ma non riesco non vedo l'ora di arrivare alla fine della prima tappa perché sono veramente già sono pigro di mio immaginate far 25 30 chilometri è stata veramente un'impresa vedremo domattina come mi alzerò ma lo spirito è quello giusto io devo ringraziare il professor ceusa perché ha avuto veramente una bellissima idea guardate qui sono le persone che incontriamo parissima come sono durante la strada saluta che sono queste le cose che ha detto mia moglie che devo fare questo suo marito no sono in diretta comunque questo è quello che si respira in in questa passeggiata stefano io sono Eleonora capito il ritratto che ho lasciato a Faride grandissimo vedo però si somiglia ma l'hai ricevuto poi no devo ancora vederlo io a Faride appena lo vedo credo ti mi piacerà grandissimo ti ringrazio posso prendere dietro sotto braccio certo comunque vedete questa è l'atmosfera che si respira in questa passeggiata è bellissimo è veramente bello pacifico legale e voglia di libertà voglia di rispetto dei nostri diritti della costituzione c'è di tutto guardate adesso vi lascio e ci vediamo quando arriviamo finalmente va bene ciao a tutti ragazzi ciao saluta Eleonora la gente come noi non molla mai